Ben ritrovati a Fruleconomy, puntata dedicata a pianificare il futuro. Lo faremo parlando con diversi ospiti che rappresentano diverse realtà, diverse specializzazioni. Partirei subito col presentarvi e poi entrerei nel vivo della trasmissione. Allora abbiamo qui con noi, da destra verso sinistra, Alessandro Caligaris della Caligaris SPA. Buonasera Caligaris. Buonasera signore. Ben ritrovato. Poi abbiamo sempre sulla parte destra dei nostri ospiti l'avvocato Massimiliano Campeis dello studio Avvocati Campeis. Buonasera. Buonasera. E dall'altra parte invece abbiamo Giovanni Gervasoni della Gervasoni SPA e anche dell'Italian Design Brands che dopo ci spiegherà di che cosa si tratta. Buonasera. Buonasera. E dall'altra parte ancora abbiamo Giancarlo Benzo che è un private banker. Buonasera Benzo. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco Benzo, partirei proprio con lei. Diciamo che in questi anni anche a livello finanziario ci sono stati molteplici cambiamenti, c'è stata anche un'ultima crisi nel 2008, però insomma già da diversi decenni stanno cambiando anche i rendimenti e i modelli di investimento delle persone. E questo assieme anche alla pianificazione, alla gestione dei patrimoni e al passaggio nazionale sono le tematiche di questa sera. Ecco, diciamo che i bot a un anno sono negativi rispetto invece a diverso tempo fa dove invece avevamo dei rendimenti particolarmente elevati. Che cosa deve fare una famiglia, un'impresa quando vogliono investire? E con che logica, visto che ad esempio sui bot ci pare di capire che sia un po' passato il tempo delle vacche grasse? Certo, il tema dei tassi straordinariamente bassi è dovuto alla politica monetaria ultraespansiva posta in essere dalla Banca Centrale Europea che per cercare di sostenere questa crisi prima finanziaria e poi economica cerca di favorire i soggetti che hanno bisogno di reperire liquidità a basso costo per creare un rilancio dell'economia. Di contro si è creato però quello che invece è un tasso negativo per chi vuole investire, volesse acquistare, dei titoli governativi di durata bassa, quindi un bot a un anno e sicuramente questo disincentiva chiunque sia il privato ma anche un'azienda che avesse degli attivi finanziari da gestire a investire, scusate la ripetizione, in questi tipi di strumenti finanziari ed è quindi obbligatorio oggi come oggi pensare a qualcosa di alternativa per avere un rendimento positivo. Evitando quali rischi soprattutto? Abbiamo capito che no bot però allora una persona investe altrove ma quali rischi sono assolutamente da evitare? Sicuramente bisogna dal mio punto di vista limitare l'investimento in singoli titoli ovvero concentrare il rischio, ampliare quanto più la diversificazione investendo proprio a livello mondiale quindi migliaia di titoli in portafoglio sia governativi sia corporate e quindi sia aziendale da un lato per limitare il rischio ma dall'altra parte anche per cogliere le opportunità che fisiologicamente i mercati finanziari offrono. Allora girerei anche a Gervasoni rispetto anche voglio dire alla sua famiglia, alla sua attività ma in particolar modo anche a lui come persona e se le regole e i principi che ha definito Benzo sono stati seguiti anche da loro e se no quali sono stati anche eventuali altri cardini attorno al quale hanno orientato le proprie scelte di gestione e pianificazione del proprio patrimonio quando si tratta anche di investirlo? Sicuramente condivido pienamente quanto ho appena detto il dottor Benzo perché questa è una delle regole fondamentali di diversificare il rischio e di non puntare soprattutto nel caso di patrimoni non di grande dimensione sui singoli titoli, questa è una regola di base e dal punto di vista aziendale e anche personale della nostra famiglia siamo stati sempre abbastanza prudenti anche se sicuramente abbiamo commesso degli errori dovute alla non diversificazione oppure aver seguito troppo alcuni cavalli che poi non si sono rivelati ma sì, scelte, intuizioni errate o comunque così molte volte anche c'è questa incapacità dello stop loss cioè il fatto di dire ma salirà, salirà, salirà e poi alla fine non vendi e perdi ancora di più di quello che avresti perso vendendo nel momento giusto e lo stop loss è una cosa a cui noi non siamo abituati, credo noi italiani, un po' per mentalità Chiederei subito lì una chiosa a Benzo come affrontare, perché l'esempio che ha fatto Gervasoni è un esempio che in realtà molto premente è estremamente diffuso parliamo sempre di situazioni, come abbiamo visto anche nel convegno che si è tenuto di recente di situazioni che capitano come affrontare il tema dello stop loss che ha detto Gervasoni? Ma è un tema tra l'altro anche abbastanza soggettivo nel senso che poi la percezione della perdita è estremamente soggettiva c'è chi è disposto a sopportare qualcosa di più e chi invece si agita ai primi problemi io credo che lo stop loss vada bene qualora non si creda che nel breve termine questo tipo di attività finanziaria possa tornare su livelli adeguati e soprattutto qualora un portafoglio non sia comunque sufficientemente diversificato per cui quell'attività finanziaria anche se temporaneamente è sofferente va a incidere pesantemente sull'andamento generale del portafoglio e quindi crea anche un po' di apprensione Ecco, prego Gervasoni, torniamo pure quindi lei diceva c'era questo tema dello stop loss e quindi poi che cosa avete capito? Come avete cambiato? Beh sì, ci tenevo a dire una cosa che nello stesso modo in cui siamo molto presenti molto attivi, molto appassionati nel lavoro dell'azienda che rappresentiamo che è quello di produrre mobili allo stesso modo siamo abbastanza disattenti e distratti e così non ci divertiamo nella gestione del patrimonio finanziario familiare per questo motivo credo sia giusto che come si dice ognuno faccia il suo mestiere quindi sicuramente appoggiarsi a dei personaggi a dei consulenti competenti che ti possono seguire, consigliare e aiutare nella scelta di investimento più giusto la regola d'oro è sempre quella del diversificare non soltanto dal punto di vista finanziario delle azioni, delle obbligazioni ma anche parliamo di immobiliare parliamo anche di altri tipi di investimenti Ecco, Caligaris invece lei è sempre imprenditore nel settore manifatturiero del design cosa si sente di dire nella gestione del patrimonio? Quali sono le regole che lei ha imparato e che quindi si sente anche un po' di condividere con le persone che ci stanno guardando qui a Friuleconomy? Io ho avuto un insegnamento da mio nonno che mi diceva attenzione che bisogna sempre fare i passi dietro la gamba diciamo che all'interno della mia azienda ho sempre cercato di fare investimenti perché è logico che quando si investe nella propria azienda si rischia improprio si sa praticamente valutare quali sono le proprie forze e quindi veramente la crescita che c'è stata anche nella mia azienda è frutto anche di questa attenzione quindi crescere investendo praticamente le risorse che si creano nel tempo è logico che le aziende possono essere veramente singole o più aziende anche oggi veramente la mia persona segue più aziende non solamente l'azienda industriale che produce veramente prodotti di arredamento ma anche altre tipologie di aziende però sempre appunto con attenzione a una gestione veramente diretta e quindi veramente il rischio in questo caso c'è però diciamo viene minimizzato Ecco, Avvocato Campeis passiamo invece al tema delle imposte di successione in questo momento c'è una legge allo studio già del 2015 che potrebbe far portare le aliquote a livelli decisamente più alti a livelli più europei però in Italia sono incredibilmente basse diciamo così che cosa dovrebbero fare le famiglie in questo momento magari sfruttando ancora questa situazione e fra quanto invece secondo lei ci si può attendere un cambiamento dal punto di vista diciamo così legale della situazione delle tasse di successione delle donazioni e dunque fra quanto è difficile da prevedere certo è che il testo di legge è sostanzialmente pronto quindi prima o dopo sarà approvato è probabile che non passerà molto tempo è vero, le imposte di successione e donazione sono tra le più basse d'Europa le franchigie sono consistenti in questo disegno di legge c'è una sostanziale duplicazione delle aliquote si passa dal 4 al 7% per quanto riguarda l'imposta di successione e donazione relativa ai trasferimenti nei confronti del coniuge e dei figli con una riduzione del franchigie da 1 milione a 500 mila euro ma addirittura una triplicazione dell'aliquota in caso di trasmissione di patrimoni rilevanti oltre i 5 milioni di euro non è solo la normativa sulle successioni e le donazioni ad essere particolarmente favorevole in Italia ma anche altre normative quali ad esempio quella che esime esonera dall'applicazione dell'imposta di successione e donazione i trasferimenti di titoli del debito pubblico ad equiparati l'esenzione da imposizione sulle polizze vita quindi sono esenti e non rientrano nella successione gli indennizi pagati in virtù di assicurazioni sulla vita un altro aspetto di favore della normativa italiana è dato dall'assenza di imposizione sulla consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà il trasferimento della maggioranza del capitale delle aziende familiare è a determinate condizioni anch'esso esente da imposte di successione e donazioni ecco vedo un attimo Gervasoni che annuiva quindi la situazione è particolarmente favorevole in questo momento qual è la paura del cambio di trasmissione e se magari voi avete già oppure eravate già stati diciamo così i protagonisti di una successione di donazioni chiederò poi dopo la stessa domanda anche a Caligaris ma annuivo sì perché più o meno conosco la normativa anche perché purtroppo ci ha riguardo di recente con la scomparsa di nostro padre non conosco la normativa negli altri paesi europei per una volta tanto l'Italia è meglio di altre situazioni per quanto riguarda il passaggio generazionale il nostro padre è stato molto prudente per cui già in tempi molto lontani già da oltre 20 anni fa già ci pensava attentamente abbiamo cercato di pianificarla in maniera corretta ovviamente anche dal punto di vista fiscale e normativo ma creando una serie di meccanismi che in qualche modo anche ci responsabilizzavano come figli per diciamo ottenere sia un alleggerimento del carico fiscale che ricordo 20-25 anni fa credo fosse molto più elevato e dall'altra parte darci una sorta di responsabilità come azionisti come partecipe della realtà aziendale ecco dopo poi torneremo a bomba sul tenere del passaggio generazionale chiederei anche a Caligaris quanto anche è preoccupato che un'eventuale imposta di successione di donazioni venga mutata con aliquote più elevate se si è già posto il problema o se voglio dire no ecco è logico che di queste cose qui se ne parla perché in un'azienda bisogna vedere sempre veramente il futuro anch'io probabilmente sono una persona che è da oltre 50 anni che lavoro in azienda quindi ho la mia età e di conseguenza ho fatto anch'io la mia programmazione lavorando appunto sui progetti che oggi veramente la legislazione permette e di conseguenza ed è logico che questo l'ho fatto in funzione di dare continuità praticamente al patrimonio praticamente di famiglia al patrimonio aziendale perché non nascondiamoci che il patrimonio aziendale è un patrimonio appunto che si trova sul territorio che dà lavoro e quant'altro e quindi una continuità all'interno della famiglia veramente è una parte molto rilevante ecco ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria poi torniamo di nuovo qui a Fruleconomy a parlare di pianificazione del futuro bene eravamo con l'avvocato Campeis gli domando magari rispetto al contesto frulano che lei ben conosce quali sono gli optimum per la gestione del patrimonio anche alla luce della fiscalità? dunque forse l'optimum non esiste nel senso che non esiste una soluzione unica valida per tutti quello che posso dire è che il Friuli mi sembra ricco di patrimoni rilevanti e anche molto rilevanti che quindi richiederebbero una riflessione su una adeguata pianificazione la fiscalità è una parte del tema l'altra parte del tema è l'adozione degli strumenti corretti per perseguire delle finalità tradizionalmente perseguite con gli strumenti tradizionali quali il testamento o la donazione ma in realtà concretamente attuabili anche con altri istituti o con la combinazione di più istituti tra di loro per perseguire quelle finalità in maniera più efficiente o addirittura perseguirne di ulteriori spesso ignote quindi la realtà e l'esperienza dicono che le situazioni standard non esistono ci sono una serie di situazioni spesso problematiche in sede di successione che possono essere correttamente arginate quali le vengono in piedi cioè le vengono in piedi che sono diciamo così più comuni nel contesto del Friuli perché magari probabilmente abbiamo anche dei telespettatori che da casa hanno avuto delle situazioni quindi quali sono stati quelli più frequenti? un tema generale può essere quello al di là del tema del passaggio generazionale che mi pare tratteremo poi è quello della destinazione di beni di patrimonio che può generare dei conflitti ulteriori in una famiglia nella quale magari già c'è della litigiosità oppure la destinazione di beni a soggetti minori di età o non capaci o non completamente capaci che richiederebbero una tutela ulteriore rispetto a quella che sarebbe data dagli istituti di diritto tradizionale ecco, quali strumenti si utilizzano lì? nei casi che cosa? se io penso a una destinazione mortis causa di un patrimonio a un bambino di 5 anni devo pensare a una istituzione di un tutore a una nomina di un giudice tutelare e quindi a un meccanismo che forse non è il migliore non è sempre il migliore o il più efficiente ci sono dei meccanismi che invece consentono che il soggetto debole, bisognoso, minore di età possa ricevere una tutela più adeguata penso lo strumento forse più completo ma anche complesso nella pianificazione e gestione patrimoniale è il Trust che è un istituto di diritto estero che però ha pieno ingresso in Italia e quindi può essere liberamente utilizzato che consente di perseguire diverse finalità in maniera molto efficace in ragione della sua flessibilità ecco, lo vedremo fra poco sia il Trust che invece la casistica del passaggio nazionale Benzo, tornerai invece sul tema anche degli investimenti e del patrimonio azioni e obbligazioni non quotate perché evitarle? ma principalmente perché la formulazione del loro prezzo non deriva dall'incrocio tra la domanda e l'offerta di mercato ma da valutazioni soggettive che sono fatte più dagli emittenti in questo senso non si ha la possibilità di avere una certezza a cui verrà smobilizzato esempio l'investimento obbligazionario se parliamo di obbligazioni prima della scadenza e soprattutto se sarà possibile smobilizzarlo perché bisogna trovare un compratore non è detto che l'emittente in questo caso di norma una banca si riacquisti il titolo prima della scadenza naturale quindi parliamo di un investimento in liquido e quindi direi anche abbastanza inopportuno visto che non c'è un adeguato premio a rischio a questo tipo di vincolo secondo lei dopo quello che è avvenuto le persone hanno capito questa lezione? io mi auguro di sì mi auguro di sì perché purtroppo le cose che sono successe hanno danneggiato tantissime persone e mi auguro soprattutto che ci sia un intervento a monte di chi crea le regole del gioco un pochettino per evitare che determinati tipi di investimenti possano essere proposti alla clientela indistinta una cosa essere piccolo risparmiatore una cosa essere investitore professionale ecco non so se su questo tema qua Gervasoni oppure Caligaris volevano intervenire Senz'altro oggi ci rendiamo conto che per qualsiasi risparmiatore da piccolo a grande deve avere veramente mille attenzioni quello che sta succedendo veramente nell'economia europea italiana soprattutto con certe situazioni di banche che non danno veramente più una certa affidabilità è logico che il risparmio diventa veramente un problema per tutti lo diventa ancora maggiormente per chi ha questi risparmi frutto praticamente del lavoro di una vita come vediamo è successo quindi io spero appunto che ci siano come diceva il dottor Benzo messe diciamo delle regole molto più strette affinché i risparmiatori trovino ovviamente un'altra volta una sicurezza e soprattutto una protezione negli investimenti che sono frutto proprio come dicevo del lavoro di una vita Ecco ma dottor Benzo ma esiste un modello vincente di portafoglio? Si ci può spiegare anche il modello Core and Satellite oppure insomma voglio dire questo ecco Ma diciamo che ci sono diverse correnti di pensiero sicuramente il cosiddetto si chiama portafoglio Core and Satellite che semplificando non è altro che avere una base molto importante in proporzione al proprio patrimonio investita in diciamo in strumenti finanziari in strategie che garantiscano anzitutto la solidità del patrimonio quindi limitando quanto più possibile le fisiologiche oscillazioni cui qualsiasi investimento finanziario si espone e invece poter avere qualora il profilo di rischio ovviamente dell'investitore del risparmiatore lo consenta una parte un po' più piccola un po' più grande dipende sempre da poter utilizzare per cogliere delle opportunità che si stanno creando sui mercati finanziari tutto però deve essere sempre fatto in un ragionamento molto chiaro con il risparmiatore che è quello principalmente dell'orizzonte temporale perché se noi investiamo in attività più rischiose il nostro patrimonio avendo un orizzonte temporale breve è evidente che ci esponiamo a dei rischi molto più importanti perché le attività potenzialmente più remunerative sono anche quelle che si espongono a maggiori oscillazioni per cui diventa difficile nel breve anzi direi impossibile scusate prevedere quello che potrebbe essere un movimento quindi l'importante io credo che sia comunque sempre la chiarezza tra il consulente e il cliente questo deve essere determinante in maniera che il cliente sappia consapevolmente che tipo di investimento ha sottoscritto ecco un'ultima chiosa Benzo comprare sui ribassi e vendere sui rialzi pochi lo sanno o pochi lo fanno? io direi che probabilmente molti lo sanno ma pochi lo fanno perché poi c'è un aspetto puramente emotivo prima abbiamo parlato all'inizio puntata di stop loss invece la regola diciamo sarebbe diversa ovviamente in un portafoglio diversificato e non nei singoli titoli ovvero su una fase di ribasso si aprono delle occasioni di acquisto però è chiaro che poi subentra come dicevo l'aspetto emotivo per cui non tutti sono disponibili quando si manifesta il problema a voglio dire ulteriormente investire in quel tipo di mercato mentre comunque la storia ce lo insegna quella è la strada maestra per poi ottenere un rendimento ma ripeto in un portafoglio è sempre diversificato nei singoli titoli invece diventa molto molto pericoloso e quindi direi da evitare a prescindere adesso chiederei magari farei una carrellata con Gervasoni con Caligaris perché raccontassero un po' il tema del passaggio generazionale nelle loro aziende poi vedremo anche con l'avvocato Campeis di affrontare alcune tematiche riguardo al passaggio generazionale e poi anche al tema del trust partirei con Gervasoni e poi dopo anche con Caligari siamo natali che raccontano un po' questo tema del passaggio generazionale come l'hanno affrontato come lo stanno affrontando e come vedono di pianificare il futuro su questo tema così importante visto l'elevatissimo numero di imprese in Italia e anche in Friuli che sono gestite da delle famiglie il tema del passaggio generazionale è sicuramente una questione molto critica molto importante e molto complessa nella nostra famiglia ovvero azienda che fino a qualche anno fa si combaciavano passaggi sono stati già due uno da nostro nonno a nostro padre negli anni 70 e poi successivamente alla fine degli anni 90 da nostro padre a noi due figli mio fratello Michele e Dio direi che sono stati abbastanza simili come caratteristiche perché sia nel caso di nostro padre che nel caso nostro al passaggio di generazione di responsabilità e di scelte strategiche è corrisposto anche un cambiamento profondo della strategia dell'azienda nel vostro caso che cosa è cambiato? forse questo riguarderà anche immagino questo Italian Design Brands no questa è una fase successiva molto più recente il passaggio generazionale che è avvenuto nel 99 quindi quasi 20 anni fa quindi dovremmo già pensare al successivo con i miei figli che ormai hanno quasi 20 anni ma è stato favorito innescato da un cambiamento profondo di quello che l'azienda stava facendo da una situazione di difficoltà dell'azienda che era ancorata a vecchie produzioni a modelli ormai da un certo punto di vista superati pur avendo ancora una solita struttura una forte base di clientela di fornitori tuttavia il prodotto che si proponeva negli anni 90 era da un certo punto di vista superato l'incontro con l'architetto Paola Navone e la scelta di noi figli di credere fortemente in questo nuovo progetto ci ha dato in certo senso anche la la forza e la la possibilità di chiedere al nostro padre un forte cambiamento di strategia aziendale alla quale richiesto dopo alcuni mesi di discussioni e di confronti sempre in maniera e misura molto tranquilla molto familiare molto da persone di un certo tipo senza mai dei contrasti forti e il nostro padre scelse pur avendo soltanto 59 anni pur non condividendo quello che era il nostro approccio scelse di consegnarci il timone praticamente da una settimana all'altra quindi con una lettera che ancora conserviamo si dimise dal direttore generale consegnando tutte le responsabilità dell'azienda a noi due figli Ecco Caligari se può tratteggiare come vede questo tema quello del passaggio nazionale nella sua azienda quali valutazioni che cosa è stato fatto o che cosa pensa di fare in futuro ecco per quanto riguarda il suo gruppo Io sono faccio parte probabilmente all'interno della famiglia della terza generazione quindi veramente nell'interno della mia famiglia ci sono stati diversi passaggi generazionali io sono appunto prossimo a farlo anzi probabilmente l'ho già programmato e l'ho già probabilmente anche gestito quindi è logico che in questo con questi temi qui c'è bisogno appunto se si vuole dare continuità al patrimonio di famiglia e se si vuole mantenere praticamente la gestione delle aziende che si sono create è logico appunto che bisogna prevedere tutto questo io l'ho fatto l'ho fatto appunto con i sistemi che oggi veramente le leggi praticamente lo permettono di conseguenza mi sono già preparato a questo c'è da dirci una cosa che comunque le aziende hanno bisogno di una loro continuità in termini non solo veramente di proprietà ma di manieraggiatà quindi di gestione quindi c'è anche questo aspetto oggi bisogna dividere appunto qual è all'interno di un'azienda l'aspetto veramente della proprietà della famiglia e l'aspetto appunto della manieraggiatà in termini di dare continuità appunto all'azienda affinché appunto possa continuare nel tempo il suo obiettivo il suo progetto le sue strategie e oggi praticamente è quello che sto facendo perché io credo molto appunto che le aziende devono avere una struttura sempre più manageriale dove la famiglia praticamente si deve porsi sempre più a lato e di conseguenza veramente far sì che l'azienda viva praticamente sì dal capitale della famiglia ma della capacità degli uomini che sono all'interno benissimo poi approfondiremo anche questi aspetti con l'avvocato Campeis lancio per l'ultima volta la pubblicità e poi torniamo di nuovo qui a Friule Economy a parlare di gestione del patrimonio e pianificazione del futuro e passaggio generazionale puntata di Friule Economy dedicata al tema della pianificazione del futuro era rimasto un discorso in sospeso dopo che abbiamo sentito della passaggio generazionale sia in Caligaris che in Gervasoni Campeis in Italia quasi il 90% delle imprese è posseduto da famiglia cosa accade o che cosa lei anche consiglia a quegli imprenditori che magari non hanno un figlio particolarmente capace o anche interessato perché magari ha altre doti o passioni a gestire l'azienda e quindi come gestire diciamo così il passaggio generazionale salvaguardando la continuità aziendale tema che prima aveva anche toccato Caligaris che è la cosa più importante quindi per salvaguardare l'attività aziendale come fare se ad esempio il figlio a cui si voleva o si vorrebbe lasciare l'azienda non è interessato non è capace questo in sintesi è assolutamente vero che il modello anche friulano è quello di capitalismo familiare quindi Friuli in questo senso rispecchia un po' quella che è l'elevata concentrazione di imprese a modello familiare presente in Italia ma in verità anche in altri stati d'Europa un'impresa basata su una concezione dell'imprenditore che vede un po' l'impresa come un'estensione della propria persona e quindi che spesso ha difficoltà anche a concepire l'idea di un passaggio generazionale quindi di una trasmissione della propria creatura a qualcun altro se qualcun altro ci deve essere di solito questo è il figlio o sono i figli certo il figlio o la figlia se il figlio non dovesse avere la voglia o le capacità di proseguire nel percorso tracciato dal padre beh allora andrebbe per prima cosa da parte dell'imprenditore accettato il fatto che il bene dell'impresa come giustamente diceva l'ingegner Calligaris è qualcosa di importante che va separato dall'interesse della famiglia quindi l'interesse dell'impresa è la sua continuità e la preservazione del suo valore e poi dal punto di vista tecnico forse andrebbe operata una rimeditazione degli assetti anche di di governo di quella società se le società sono a base familiare hanno una struttura tendenzialmente dove la proprietà della gestione coincidono bisognerebbe preparare l'azienda al passaggio e quindi all'ingresso di capitale esterno di manager esterni imponendole una struttura più manageriale come aveva detto prima Calligaris esattamente quindi una separazione diciamo gerarchica di funzioni e un efficientamento anche della della sua organizzazione quindi ci vuole tempo e aziende strutturate certamente è anche vero che il Friuli come l'Italia è una terra di piccole e medie imprese e quindi come si innesta questo discorso Campeis? è un tema che prescinde a mio avviso dalla dimensione in senso stretto è proprio una questione di assetto dell'impresa anche l'impresa piccola o media può essere appetibile anche sul mercato dei capitali però il requisito è che abbia un'organizzazione tale da poterlo permettere quindi una una struttura disancorata per quanto più possibile dalla famiglia che ne è proprietari quindi delegare sostanzialmente organizzazione per funzioni avere un direttore generale un amministratore delegato insomma quanto meno questi primi questi primi passaggi di delega che un po' scorporerebbero proprietà da gestione e per quanto riguarda il trust quali sono i vantaggi del trust per il passaggio generazionale e se prima ci dice brevemente di che cosa si tratta il trust è in realtà uno dei diversi strumenti che possono essere utilizzati in Italia per gestire il passaggio generazionale molti casi sono stati brillantemente affrontati e risolti con l'utilizzo di strumenti molto più tradizionali quali le strutture societarie holding di famiglia il patto di famiglia che il legislatore ha previsto alcuni anni fa che è una sorta di accordo tra l'imprenditore e i suoi futuri eredi chiamiamoli così volto al trasferimento dell'azienda e quindi alla conservazione del suo del suo valore il trust che è un istituto che come dicevo è utilizzabile in Italia anche se non c'è una legge che lo regolamenta e quindi andrà scelta una legge regolatrice straniera ma con la possibilità di istituire un trust italiano e quindi con un disponente italiano con dei beni siti in Italia con un trust italiano è uno strumento più flessibile in che cosa consiste in brevissimo il soggetto titolare di beni e quindi anche in questo caso di partecipazione di controllo di una società di capitali li conferisce in una scatola che è il fondo in trust il quale viene gestito da un soggetto terzo che spesso è un soggetto professionale quindi non pensiamo alla persona fisica ma una società spesso di emanazione bancaria che si chiama trustee e che segue le indicazioni dello stesso disponente che devolve queste partecipazioni gli utili di queste partecipazioni ai soggetti designati come beneficiari dal disponente stesso perché è utile e forse più adatto a gestire determinate situazioni perché è uno strumento più flessibile perché il trustee può anche avere e quindi essere obbligato a seguire delle indicazioni di natura diversa rispetto alle attribuzioni patrimoniali e quindi anche la designazione ad esempio dell'organo amministrativo della società viene utilizzato con successo in casi dove ci sono ad esempio dei dissidi familiari oppure in casi dove è necessario coprire quel periodo temporale tra pensiamo alla minore età dei figli i quali avrebbero le capacità per gestire l'impresa ma ancora anagraficamente non sono idonei e il periodo in cui lo saranno e quindi il fatto di avere un operatore professionale che possa nominare dei manager che gestiscano questo periodo di interregno può supplire a questo deficit che altrimenti non sarebbe colmato mi sembra particolarmente chiaro anche questo passaggio soprattutto legato anche al tempo e alla managerializzazione domanderei a Benzo che cosa sono i peer e in che modo famiglie e imprese potranno beneficiarne i peer sono dei piani individuali di risparmio una normativa devo dire per fortuna che è arrivata anche in Italia che ha effetto dal 2 gennaio di quest'anno che quindi ci avvicina a tantissimi altri paesi del mondo che fa sì che il piccolo risparmiatore che va ad investire in fondi specializzati che andranno a loro volta ad investire nelle aziende italiane non le solite note ovvero quelle diciamo che fanno parte del comparto Fuzzimib ma quelle più piccole anche le piccole e medie imprese tornando un po' a dei discorsi che sono stati fatti e quindi anche diciamo più a livello locale potranno avere se resteranno investiti almeno 5 anni con un investimento massimo di 30 mila euro all'anno per 5 anni quindi un totale di 150 mila euro complessivi per ogni persona fisica l'esenzione totale dalle imposte sui rendimenti quindi le imposte sul capital gain quindi con un risparmio del 26% questa legge è stata creata principalmente non per far risparmiare il risparmiatore in termini di imposte quanto per portare capitali alle aziende creando finalmente quello che definisco un ponte diretto tra risparmiatore e impresa senza passare necessariamente dal sistema bancario ovvio che per beneficiare di tutti questi soldi che stanno entrando ed entreranno chiamiamolo nel segmento peer si parla di alcuni miliardi di euro nei prossimi anni quindi tanti tanti soldi bisogna perlomeno essere quotati nell'AIM che diciamo che è un segmento un settore estremamente piccolo di nicchia dove basta avere una piccola parte di cosiddetto flottante per farne parte a quel punto si può beneficiare sia in termini di equity ovvero di capitale sociale ma anche di emissioni di bond per reperire della liquidità di questi soldi perché i fondi specializzati entreranno in piccolissima parte ma proprio piccolissima nel capitale sociale perché nessuno comunque concentrerà il rischio oppure acquisterà queste obbligazioni e quindi di contro il piccolo risparmiatore avrà un portafoglio seppur investito in Italia estremamente diversificato con 5-600 titoli tra azionari e obbligazionari di tantissime aziende eccellenti che sono in Italia perché in Italia abbiamo grande eccellenze non dimentichiamocelo mai e quindi certo mai concentrare il rischio ma sicuramente dobbiamo credere anche nelle imprese italiane quindi infatti vedevo appunto a questo progetto anche Caligaris che annuiva a questo strumento che favorirà diciamo così l'emissione degli investimenti del risparmio degli enti tipicamente inutile cioè le famiglie verso in questo caso qua le aziende anche con le eccellenti in Italia ma giustamente questo progetto fa sì che oggi molte aziende che non confluiscono appunto nel progetto borsistico possono farlo perché anche diciamo nella categoria come diceva AIM quindi nelle categorie più piccole diciamo dove ovviamente gli investimenti non sono irrilevanti fa sì che questi capitali possano appunto arrivare alle aziende quindi partecipare far partecipare veramente i risparmiatori all'interno di tante piccole aziende italiane noi sappiamo che l'Italia è proprio fatta di tante piccole aziende quindi un percorso borsistico oggi premente questa legge fa sì che promuove un avvicinamento alla borsa anche appunto alle aziende che oggi premente non lo facevano perché non vedevano l'opportunità anche la mia azienda ad esempio proprio un mese fa circa gli è stato conferito ovviamente l'attestato di azienda diciamo elite quindi che può praticamente partecipare al percorso borsistico quindi potrebbe essere veramente un'azienda che va sul mercato e questa parte di flottante che va sul mercato può essere veramente investita da tanti risparmiatori di famiglie italiane e quindi sia vera quello che diceva prima quindi fa sì che le aziende non siano solamente patrimonio della famiglia ma diventano patrimonio anche veramente dei risparmiatori dei risparmiatori sì prego se posso venire a conclusione credo anche che questa normativa qui possa essere veramente un aiuto concreto alla ripresa economica in Italia perché queste aziende che riceveranno grandissime risorse poi dovranno reinvestirle in qualche maniera e quindi questo creerà poi un volano un effetto domino che quindi potrà creare diciamo nuove iniziative nuova occupazione e quindi una ripresa dell'economia perfetto non so se Gervasoni voleva dire qualcosa su questa iniziativa se è rimasto colpito positivamente e magari sui peer e poi magari un'ultima battuta sul tema del trust e nel caso vostro invece della holding no sui peer mi sembra una cosa molto interessante mi ha quasi stupito che il legislatore fosse così visionario tuttavia credo che anche per esperienza personale il problema della liquidità sia un po' un falso problema in quanto per esperienza personale abbiamo visto come in realtà sul mercato almeno in Italia al resto dell'Europa non lo conosco sia molto più facile trovare denaro che trovare idee o trovare aziende o imprenditori quindi i fondi le banche le varie istituzioni finanziarie il denaro ne hanno molto e oggi proprio come dicevamo prima i tassi sono bassissimi per cui chi ha patrimoni non sa dove investirli quindi secondo me non esiste una carenza di liquidità per investire nelle aziende comunque al di là di questo sicuramente un applauso ai peer Italian Design Brands è un progetto bellissimo è una in parte una risposta anche ai temi che abbiamo trattato questo pomeriggio e risponde a varie esigenze non indicandoli in modo dalla più importante all'altra direi che sicuramente la prima è quella di garantire un valore nel tempo all'azienda al centinaio di persone che lavorano con noi e quindi anche una sorta di responsabilità sociale un altro punto molto importante è di anticipare in qualche modo un passaggio generazionale nel caso di mio fratello lui non ha figli nel caso mio ho dei figli molto giovani per cui non mi sentivo di coinvolgerli in maniera già di vincolarli perché poi passare di mano un'azienda è un problema sia per l'azienda che per chi la riceve perché non è detto che chi la riceve abbia sia le capacità ma anche l'interesse e la passione per gestirla e terzo punto molto importante era per noi anche una sorta di fare quello di cui tutti parlano e che nessuno fa in Italia cioè l'aggregazione l'aggregazione tra aziende è una cosa che all'estero è ormai normalissima e molto frequente in Italia da quando ho cominciato lavorare quasi 30 anni fa si parla di aggregazioni si parla di fare squadra si parla di mettersi insieme in realtà nel nostro settore perlomeno dell'arredamento pochissimi o quasi nessuno l'ha fatto e quindi ci sembrava una cosa interessante e molto sfidante poterlo poter intraprendere questo percorso quindi ci siamo messi alla ricerca di parti finanziari molto validi che fossero anche un contributo in termini di idee di visioni e di stimolo alla crescita e il progetto è di aggregare 6-7 aziende del Made in Italy ma non solo nel settore di fascia alta dell'arredamento per costituire una massa critica importante di sotto del cappello della Holding Italian Design Brands per poi andare alla Bolsa Italiana a questo punto non più a Lime ma nel segmento Star che riguarda le aziende più performanti per valorizzare l'investimento dei nostri soci investitori ma anche per dare continuità e maggior valore alle nostre aziende perfetto diciamo che siamo andati fuori fuori tempo ringrazio gli ospiti di questa sera qui a questa puntata di Friuli Economy l'avvocato Massimiliano Campeis il private banker Giancarlo Benzo l'ingegnere Alessandro Caligaris di Caligaris SPA grazie grazie e poi Giovanni Gervasoni di Gervasoni SPA di Italian Design Brands ci vediamo fra una settimana Friuli Economy puntata dedicata ai migranti sia agli immigrati che agli immigrati in Friuli e ancora un grazie ovviamente ai registi ai tecnici di questa sera Pierangelo Buttazzoni e anche Davide Modotto a tutti una buona serata con i programmi di Teleferulico a tutti Grazie a tutti.